buongiorno a tutti ovunque voi siate il mio nome è federico gobbo e oggi vi parlerò di l'interlinguistica dell'esperantologia oggi in particolare l'esperienza di amsterdam perché sono il professore interlinguistica ed esperanto alla università di amsterdam intanto di che cosa stiamo parlando che cos'è l'interlinguistica chi era costei perché non se ne sa molto si tratta di un ramo della linguistica quindi la scienza linguaggio non ortodosso in una famosa definizione di claus schubert del 1989 un collega chiama appunto un ramo in non ortodosso perché non ha le normali strade della linguistica ma viene praticata anche in luoghi inconsueti quindi non solo in università ma anche in compagnie di software da bibliotecari da attivisti da poliglotti di che cosa si occupa l'interlinguistica allora l'interlinguistica ha una lunga storia di cui non parleremo nel dettaglio la definizione principale storica è quella di otto jaspersen del 1931 che io chiamo la vecchia scuola e era l'idea dell'interlinguistica l'idea di trovare una lingua ausiliaria internazionale per una comunicazione più giusta più equa in cui io che sono italiano parlo italiano un'altra persona parla un'altra lingua e invece io di imparare la lingua dell'altro o di far imparare l'italiano all'altro parliamo una lingua neutra in mezzo le lingue ausiliaria internazionali sono molte se voi vedete questo questo elenco queste sono le principali molto probabilmente a meno che voi non parliate speranto non avete sentito parlare della maggior parte di queste lingue il che già vi dice qualcosa si dice che in questa tutta questa storia della prima metà del novecento si conclude con una vittoria di fatto dell'esperanto di ludovico lazaro zamenhof italianizzato sulle altre proposte i motivi di questa vittoria relativa naturalmente alle altre proposte le vediamo brevemente da un punto di vista tecnico le lingue ausiliarie internazionali sono pianificate cosa vuol dire vuol dire che hanno una caratteristica peculiare che le distingue dalle altre lingue parlate questa caratteristica è la mancata priorità storica del parlato normalmente con eccezione importante nelle lingue dei segni le lingue storico naturali vengono prima parlate e poi se va bene scritte attualmente nel mondo ci sono circa 7000 lingue registrate e circa la metà ha un sistema di scrittura stabile la maggior parte delle lingue del mondo sono solo parlate le lingue pianificate invece partono in una maniera diversa partono con un progetto vedete qua a sinistra project phase fase di progetto questo significa che una singola persona pensa alla grammatica ai testi di base a un lessico di base e a uno scopo per questa lingua nel momento in cui questa lingua viene pubblicata si instaura il contratto primitivo e le riforme non sono più possibili gratis cioè se si vuole fare un cambiamento alla struttura lo si paga e inizia quella che ferdinand de Saussure chiamava la vita semiologica quindi la grande sfida delle lingue pianificate è l'oralità esattamente il contrario della grande sfida delle lingue storico naturali che è la scrittura le lingue osiliari internazionali hanno una loro idea fondante che può essere riassunta in due concetti chiavi internazionalità e neutralità come questi concetti vengono declinati dipende dal contesto storico e sono aspetti che ad Amsterdam all'università di Amsterdam dove insegno vengono curati nel corso introduction to interlinguistics che naturalmente in inglese vi do soltanto un paio di esempi per farvi capire come dietro queste lingue ci siano anche delle idee che sono interessanti per proprio per la storia del pensiero umano e la storia delle idee una domanda tipica che ci si poneva fino alla prima metà del novecento era quale lingua per la comunicazione scientifica adesso è l'inglese è la lingua globale in particolare per la produzione scientifica originale ma questa storia c'è questo questo risultato è il punto finale di una storia lunga che parte la rivoluzione scientifica del seicento europeo con copernico e in cui il latino non basta più e comincia incomincia a declinare nel libro di michael godin scientific babel si narra questa storia in maniera molto dotta ma anche molto divertente in cui tra le varie lingue scientifiche che non sono tante circa una dozzina nelle lingue del mondo hanno avuto questo ruolo di lingue scientifica nel senso di lingue di produzione scientifico originale quindi di scrittura di idee nuove e naturalmente c'è il francese il tesco l'inglese il russo ma anche esperanto e lido una una riforma dell'esperanto che è caduta in disuso quindi questa questo questo ruolo storicamente l'esperanto ha giocato appunto un ruolo storicamente in per questi scopi perché l'esperanto ha vinto sul sulle suoi concorrenti sui suoi rivali come direbbe roberto garvia un sociologo spagnolo che ha scritto un libro molto interessante sul profilo sociologico del mondo esperantista e storico e ed intorni diciamo la risposta sta nella forza del messaggio ideale di examenhof il fondatore dell'esperanto glotto teta qui vediamo un estratto del fumetto che ho scritto e che ho fatto disegnare da un professionista iuri gamberoni per un atelier di esperanto in una scuola media montessori a milano qualche anno fa e a un certo punto della storia una della una protagonista legge un libro una biografia su su samen off e questo è diciamo riassunto a fumetti quindi una storia dentro la storia e potete vedere che zamenhof si presenta e mostra che la sua città natale era biawi stock in polonia al confine con la bielorussia quindi all'estremo orientale dell'attuale unione europea naturalmente ai tempi nel 1859 quando nacque si trattava di impero zarista la polonia non era sulla cartina geografico politica a biawi stock vivevano quattro gruppi etnico linguistico religiosi gli ebrei li vedete a destra con la stella di david che parlavano yiddish in quella in quell'area ed era naturalmente religione ebraica subito a sinistra una minoranza di tedeschi prussiani da prussia orientale luterani i russi ortodossi cristiani ortodossi e i polacchi cattolici quindi la zamenhof voleva nella sua vita risolvere queste due fratture umane a partire dalla frattura linguistica e quella religiosa con quest'ultima quella religiosa messa in primo piano in realtà quindi lui chiamò l'esperanto lingua neutrale homa cioè lingua neutralmente umana e per lui questa neutralità era una neutralità anche di tipo religioso e che voleva appunto sostenere un un contatto tra le persone in cui ci si concentrasse sulla sulle cose più in comune che sulle differenze questa è la copertina del fumetto allora l'esperanto nasce appunto nell'impero zarista viene pubblicato a varsavia nel 1887 e i primi i primi adepti dell'esperanto sono russi come possiamo vedere da questa da questo grafico che mostra le prime persone che hanno seguito zamenhof abbonandosi alla rivista e avendo dato appunto il loro indirizzo questa situazione cambia a inizio del novecento in cui c'è il passaggio proprio tra l'anno 1900 e 1901 in cui ci sono più francesi che russi per cui la base dell'esperanto dopo la prima generazione di esperantisti che appunto sono basati su russe sulla cultura slava si basano invece sulla cultura francese francofona in realtà anche perché un altro punto importante del mondo esperantista dell'epoca era ginevra e quindi l'esperanto incomincia a diffondersi in europa occidentale e il primo punto fondante della comunità di pratica esperantista è il primo congresso universale a boulogne sur mer una cittadina francese sul mare che guarda a guarda all'inghilterra vicino a calais e in questo momento per la prima volta si incontrarono persone da diversi paesi da molti paesi più di 600 tra 600 e 700 persone e usarono l'esperanto come lingua parlata quindi la sfida del parlato di cui vi parlavo all'inizio inizia nell'esperanto veramente nel 1905 c'era una grande speranza allora che l'esperanto venisse adottato come lingua diplomatica lingua della appunto della comunicazione internazionale da un punto di vista formale e naturalmente questa speranza finisce con la belle epoca vediamo una cartolina satirica dell'epoca in cui si vede che le potenze sono pronte per combattersi nella quella che diventerà poi la prima guerra mondiale ma l'esperanto continua l'esperanto sopravviva la prima guerra mondiale e e cambia si evolve come lingua perché se non la lingua viva chiaramente cambia e anche cambiano le persone e le motivazioni per le quali le persone imparano l'esperanto rispetto alla prima quindi l'esperanto a un punto di vista sociale è interessante perché le sue viene declinato in maniera diversa a seconda dell'epoca e del luogo in cui si trova in particolare verrà poi perseguito perseguitato scusate perseguitato esplicitamente durante la seconda guerra mondiale dai grandi terribili totalitarismi del novecento in particolare il nazismo e lo perché dopo la prima guerra mondiale un certo movimento internazionalista di diciamo venature anarco socialiste aveva preso l'esperanto come idea del latino dei proletari questo decimò gli sperantisti e rischiò di far sparire la lingua ma ancora non ci non ci non ci riuscirono nemmeno Hitler e Stalin a sconfiggere l'esperanto quello che succede dopo la seconda guerra mondiale quindi nella seconda metà del novecento l'esperanto diventa un fenomeno mondiale questa una mappa della dei gruppi sperantisti in vero non completamente aggiornata ma si può vedere come la il grosso della dei puntini rossi sono sono naturalmente in Europa ma ci sono anche gruppi sparsi poi la situazione sta cambiando velocemente anche per via della pandemia del covid 19 perché molte persone sempre di più imparano l'esperanto online noi adesso siamo online per cui anche il concetto di gruppo locale incomincia a essere un po a doversi ridefinire con con gli incontri ibridi per esempio in cui il gruppo locale organizza qualcosa ma viene anche trasmesso in diretta online l'inter linguistica con la fine della della seconda guerra mondiale entra in un grande inverno che cosa intendo intendo che se l'esperanto ha rischiato di essere decimato dalla da Hitler e Stalin in particolare nella seconda guerra mondiale i suoi rivali sono stati davvero decimati quindi non non hanno più avuto un grande una grande diciamo influenza c'è stato l'interlingua della Iala nel 1951 creata dopo che ha avuto una piccola vitalità soprattutto all'inizio ma è stato un fuoco di paglia non non è durata molto da un punto di vista del successo di numero di persone di adepti quindi non non sto dando giudizi di valore sulla qualità della lingua ma sto constatando il fatto che è una lingua pochissimo usata quindi vengono ogni tanto si come dire espolvera qualche vecchia gloria per esempio il neo di Arturo Alfandari già preso nel 37 viene ripubblicato nel 1961 ma non non ha veramente nessun successo e invece incominciano a uscire allo scoperto progetti di lingue diverse in particolare vediamo la danna di Suzette Haden Elgin del 1982 che è una lingua fatta da una femminista per le donne doveva essere la lingua segreta delle donne la propone alle femministe tra cui anche una mia collega dell'università di Amsterdam che insegnava language and sex negli anni della prima ondata del femminismo quindi negli anni 70 80 e le femministe non non la non l'accettano non hanno altre priorità le femministe dell'epoca per cui poi Suzette Haden Elgin trasforma questa lingua in una lingua per la fantascienza e quindi scrive la usa in nei suoi romanzi di fantascienza sotto forse invece lo conoscerete meglio perché tra poliglotti è piuttosto noto il Klingon che è stato raffinato e messo a punto da Marco Ocran nel 1984 in quel momento non è una lingua che non ebbe una una grande ecco da un punto di vista accademico e intellettuale ma invece vedremo che ha avuto una influenza molto interessante sulla disciplina dell'interlinguistica ci torniamo tra poco intanto l'interlinguistica stessa si deve ridefinire proprio per via del suo inverno e Walter Tauli un linguista scandinavo nell'ultimo capitolo della sua del suo libro sull'introduzione a una teoria della pianificazione linguistica del 68 ricolloca la l'interlinguistica come un ramo della teoria della pianificazione linguistica applicata alle livelli internazionali quindi non l'unico per darvi un'idea in sintesi abbiamo la linguistica generale che si divide in linguistica teorica e linguistica applicata linguistica teorica si occupa di vari strati della lingua la fonetica la sintassi e altri nella linguistica applicata ci sono diversi approcci tra cui la pianificazione linguistica secondo Tauli che si divide in interlinguistica pianificazione delle lingue nazionali e pianificazione delle lingue regionali pensate per esempio a una istituzione come in Italia l'Accademia della Crusca che si occupa della pianificazione del lessico dell'italiano o invece a associazioni di lingue regionali sempre per esempio in Italia in Italia sul friulano oppure sul sardo che hanno naturalmente anche loro hanno un ruolo per pianificare modificare il materiale linguistico della lingua in oggetto quindi l'interlinguistica si occupa del livello internazionale quindi l'ottimizzazione della comunicazione internazionale in questo senso quindi questo è un po' quello che diventa l'interlinguistica nella seconda metà del novecento fino più o meno alla 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 fine della del novecento e qui viene riassunto bene da uno dei maggiori interlinguisti di quell'epoca di Etef Blanke mancato qualche anno fa purtroppo fondatore della della scuola tedesca di interlinguistica in cui lui allarga lo spettro dell'interlinguistica allo studio dell'ottimizzazione della comunicazione linguistica internazionale quindi non soltanto lo studio di Esperanto e altri eventuali rivali ma anche comparazione con con soluzioni diverse come una cosiddetta lingua franca come l'inglese che secondo me tanto franca non è oppure un sistema di lingua receptiva per cui ognuno parla la propria lingua ma capisce quella dell'altro e quindi pro e contro di diverse soluzioni possibili quindi l'interlinguistica che prova un pochino ad allargarsi quanto ci riesce non tantissimo perché va a collidere con altre discipline altri rami della linguistica che si occupano di appunto di comunicazione interculturale per esempio Blanche il contributo principale a mio modo di vedere della ricerca di Blanche è la sua scala che ha due versioni una del 1985 e una del 2006 non andiamo naturalmente a esaminare qui i dettagli di questo ho anche pubblicato un articolo su questi aspetti ma non ha importanza andiamo a vedere in pillole quindi proprio a livello essenziale quali sono le tre fasi cronologiche delle lingue pianificate in particolare le lingue ausiliari internazionali tutte le lingue iniziano nel segreto dello studiolo del glotto teta come progetti finché non vengono pubblicati il glotto teta può fare ciò che vuole con la lingua nel momento in cui viene pubblicata abbiamo visto c'è il contratto primitivo e perde il controllo della struttura e quindi diventa praticamente intoccabile ci sono più di un migliaio di lingue registrate i progetti sono tanti in fondo basta mettersi lì spendere un po di tempo e scrivere una una brochure un libretto un sito web chiaramente o qualsiasi altra cosa di questi di queste mille progetto soltanto una dozzina diventano semi lingue secondo la terminologia di di blanche in cui glotto teta riesce a formare un gruppo di attivisti di adepti dalla lingua e che cerca riconoscimenti esterni quindi la lingua viene usata per la propaganda per congressi o festival ma non su base quotidiana e comunque da un gruppo ristretto il momento cruciale delle semi lingue è la morte del glotto teta siccome gli esseri umani non sono eterni a un certo muto muoiono e se si perde la figura carismatica e il movimento che sostiene questa questa lingua non è abbastanza forte collassa questo è quello che è successo per praticamente tutti tutti questi progetti tutte queste semi lingue a parte una sola alla fine l'esperanto e l'esperanto è riuscita a fare tutto tutto il percorso dalla scrittura l'oralità perché ci sono anche i parlanti familiari che vengono chiamati native esperanto speakers che è un termine che io non apprezzo oppure denasculoi in esperanto cioè dalla nascita ma il punto non è tanto la nascita non è tanto la il fatto di essere cosiddetti nativi secondo me ma il fatto che la lingua venga usata in famiglia quando si è piccoli che non è la stessa cosa perché si tratta comunque di di situazione di bilinguismo non esiste il modo lingua esperanto quindi alla fine la scala di blanche mostra chiaramente che è l'esperanto quella lingua che è riuscita a naturalizzarsi completamente il mio mentore fabrizio pennacchietti nel 2011 invece ha un atteggiamento un po diverso più strutturalista e chiama la disciplina la scienza dell'intervento cosciente l'uomo sul linguaggio e distingue due indirizzi uno storico retrospettivo quindi andare a vedere che cosa è successo recuperare manoscritti di lingue progetto perdute cose di questo tipo e un indirizzo teorico e prospettivo che appunto dice corrisponde con l'ottimizzazione della comunicazione internazionale di cui parlava blanche passiamo adesso alla cattedra di interlinguistica esperanto università di amsterdam che attualmente tengo e così vi racconto un po la specificità del del mio approccio all'interlinguistica allora la storia della cattedra in pillole nel 1950 l'università di amsterdam da inizio a un lettorato di esperanto grazie a questa figura sigismundo pragano un avvocato di bucaresta quindi rumeno attivo nel movimento sperantista già dagli anni 20 insegnante c'è che è un metodo particolare un metodo diretto per apprendere l'esperanto che era rifugiato da amsterdam nella seconda guerra mondiale perché era di gruppo ebraico quindi da avvio alla slavistica fondamentalmente perché insegna anche rumeno naturalmente e inizia questa questa tradizione nella ricostruzione dell'università di amsterdam nel nei primi anni cinquanta perché per chi conosce la la storia della della città di amsterdam hunger winter e l'inverno della fame nel 1948 49 fu un momento drammatico per la città perché si moriva di fame e quindi la città cercò di rilanciarsi e l'università fu uno dei pilastri di questo rilancio elettorato continua nei decenni con altre persone in particolare middle copp la signora middle colp che un esperantista olandese che aveva tenuto questo elettorato e alla sua scomparsa ha lasciato una cospicua eredità per istituire una cattedra invece più solida una base una cattedra speciale che verrà istituita soltanto nel 1996 per cui ci fu un periodo di vuoto diciamo dell'esperanto all'università di amsterdam il primo cattedratico è stato il noto fonologo olandese mark van ostendorp che è molto attivo in olanda ma non solo e soprattutto online sia per l'olandese che anche per la linguistica generale ha fatto un mock con l'università di leyden the miracle of human languages che è stato seguito da centinaia di migliaia di persone forse il corso di linguistica generale più popolare al mondo di sempre a cui poi è succeduto per una decina d'anni l'ingegnere vimi ansen dal 2014 tengo la cattedra io federico gobbo è che già insegnavo allora interlinguistiche sperando l'unità di torino la mia alma mater punto mio mentore di torino fabrizio pennacchietti e lo sponsor principale della cattedra associazione universale speranto che anche sponsor della polyglot gathering a cui stiamo partecipando ora con sponsor e anche speranto nederland l'associazione nazionale olandese collegata con l'uea questo è la presentazione storica nella cattedra 2014 in erlandese c'era anche la versione in inglese naturalmente c'è ancora cambiato un po il sito tanto per dare un'idea quindi sono un po di anni che sono che sono ad amsterdam e naturalmente ho dato il mio taglio cioè io arrivo dalla scuola torinese perché la scuola torinese in realtà è aveva una lunga tradizione aveva perché da quando io sono partito non c'è più interlinguistica a a torino non non viene veramente praticata qualcuno fa delle cose ma in maniera secondo me molto superficiale perché dico questo perché l'inter linguistica tra le varie figure inter linguistica c'è giuseppe peano logico matematico che aveva proposto all'inizio novecento il latino sineflexione come come lingua di la di scrittura per la comunicazione scientifica fondamentalmente e fu un grandissimo logico matematico gli assiomi di peano sono fondanti appunto la logica matematica e nonostante fece questo fuori dalla sua attività accademica perché con l'unità di torino in realtà ebbe grossi problemi risolti post mortem perché oggi il dipartimento di matematica è intitolato lui l'inter linguistica rientra con appunto mio mentore fabrizio pennacchietti allievo di alessandro baussani grande poliglotta e soprattutto orientalista che oggi fabrizio è professore merito e il suo insegnamento viene istituito nel 1994 quindi due anni prima la della cattedra di amsterdam è durato 15 anni ha prodotto anche diverse tesi lauree importanti fino al 2009 e dopo un anno di pausa tecnica diciamo è stata istituita una cattedra a contratto di pianificazione linguistica lingue pianificate che ho ottenuto io per un po di anni fino al 2019 appena prima della della pandemia una delle peculiarità della dell'attività di ricerca mia è stata ed è quella di recuperare e attualizzare la sintassi strutturale di lucien tenier l'ultimo esponente dello strutturalismo che parte con ferdinand de saussure tenier fu slavista e ebbe una proposta molto interessante pubblica postuma purtroppo la sorbona nel 1959 e di questa proposta piuttosto complessa vengono adottati due concetti dalla maggioranza dei sintaticisti il concetto della valenza e il concetto della dipendenza pochi sanno e qui cito la l'edizione inglese che è stata pubblicata soltanto 2015 questa nota in cui la sua rappresentazione in realtà ha un'eredità esperantologica perché lui indica i nomi e i pronomi e le varie entità sintattiche morfologiche di di lato stativo con una o come la finale dell'esperanto e le modificazioni di questi come aggettivi numerali articoli determinanti con una dall'altra parte indica la il polo invece predicativo verbale con una i che viene dalla dalla finale dalla desinenza dell'infinito in esperanto e i le modificazioni di questi verbi che possiamo chiamare avverbi ma anche circostanti complementi di modo se volete o di tempo o di maniera con una e e lo dice esplicitamente questo purtroppo nell'edizione inglese viene completamente tolto quindi i suoi modelli perdono questa questa capacità io ho recuperato dal francese per la mia tesi dottorato in informatica in realtà quindi linguistica computazionale e con il matematico marco benigni abbiamo elaborato le grammatica posizionali costruttive che sono quindi un un risultato collaterale della della mia attività esperantologica che sono descritti in termini formali con la teoria delle categorie in particolare la topologia di grove sandic allo scopo di tutto ciò avere una struttura leggera ricorsiva che permetta di evidenziare fenomeni morfo sintattici che è stata poi dopo anche estesa per fenomeni di tipo pragmatico come per esempio la teoria dell'argomentazione vi do soltanto un esempio di frase in inglese e questa è come viene rappresentato vedete tutte le lettere a corredo delle foglie di quest'albero rovesciato che sono appunto le lettere che usava Tenier un altro ramo di ricerca più prettamente sperantologico che perseguo da molti anni è proprio l'approccio sociolinguistico quindi che cosa vuol dire essere sperantisti cosa vuol dire far parte del movimento sperantista o del parlare all'esperanto senza far parte movimento sperantista e naturalmente questo pone delle problemi grossi perché nel momento in cui uno vuole studiare la sociolinguistica l'esperanto deve imparare l'esperanto e quindi di fatto fa parte della dell'oggetto di analisi e quindi c'è il paradosso dell'osservatore come già e aveva individuato il linguista john edwards nel 1986 un altro aspetto rilevante interessante della della sociolinguistica dell'esperanto quindi fa parte è un nucleo specifico della vita dell'esperanto la vitalità dell'esperanto naturalmente è l'esperanto usato come lingua familiare in italia è stato studiato soltanto da renato corsetti ma ci sono state altre 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 altri studi è interessante vedere che le motivazioni sono possono essere non immediate nel senso persone una coppia di due genitori e storicamente i primi studi sono su coppie etero quindi c'è un padre una madre spesso erano della stessa lingua i due italiani per esempio che si che si incontrano tramite l'esperanto ma per dare un valore positivo al bilinguismo cioè dando un valore positivo al bilinguismo decidono di crescere i figli bilingue italiano e speranto e di solito il padre che rinuncia alla all'italiano in questo caso e parla in esperanto ai figli all'alto opposto abbiamo invece coppie che si incontrano a incontri sperantisti e la cui unica lingua in comune forte nella lingua dell'innamoramento dei genitori quindi è l'esperanto non hanno intenzione particolare di insegnare l'esperanto ai figli lo parlano tra di loro parlano i figli nelle loro altre lingue per esempio tedesco e giapponese e i figli capiscono l'esperanto passivamente e poi magari diventano attivi con l'esperanto quando diventano adolescenti quindi come si può vedere non è una forma di nativismo normale è proprio a delle cose specifiche molto interessanti chi studia queste cose attualmente abbiamo i colleghi a Leipzig Sabine Fiedler si ribrosce non credo sia più adesso a Leipzig comunque hanno fatto parte del progetto europeo MIME mobilità inclusione l'Europa multilingue dove anch'io ho partecipato come università di Milano Bicocca e si sono si occupano anche di questi aspetti nell'ultima diciamo ondata di esperantisti con l'ultima generazione di esperantisti c'è sempre di più una presenza importante di lgbtq plus e quindi la questione di genere diventano sempre più importanti non andrò troppo nei dettagli su questo tecnici diciamo linguistici ma per darvi proprio un'idea e c'è una forma di sbilanciamento nella nella lessico l'esperanto sbilanciato verso il maschile perché una lingua indoeuropea e quindi ci sono delle proposte per avere per esempio un pronome un pronome di terza persona singolare che non sia non binario come il come si chiama in hen in svedese che è stato accettato all'accademia di Svezia accademia linguistica di Svezia e appunto in esperanto c'è questo ri un altro aspetto di applicazione dell'esperanto interessante con la traduzione automatica questo è una una cosa che è nata già negli anni 30 nell'unione sovietica con peta trojansky forse uno dei primissimi modelli traduzione meccanica ancora non automatizzata quindi sempre computer digitali poi invece gli anni 80 ci fu un progetto di lt distributed language translation fatto in olanda con uno studio di fattibilità piuttosto ricco e e questo è diciamo le sono i due radici storiche della 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 relazione tra sperante traduzione automatica oggi ci sono alcuni progetti il progetto apertium è un progetto open source lanciato da un consorzio università spagnole che viene poi allargato a lingue non iberiche quindi anche l'esperanto c'è una compagnia gram trans fondata e car blick ricercatore danese e nel 2012 e sperando diventata la lingua numero 64 della google traduttore e il dal blog dei tempi di google traduttore e i tecnici furono molto molto colpiti dalla qualità da traduzione automatica dell'esperanto nonostante i corpora siano piuttosto ristretti rispetto rispetto a lingue più grosse concludo con l'interlinguistica per il con il mio nonno accademico alessandro bausani in cui lui appunto parlava della verbigerare non naturale quindi includeva anche fenomeni non di comunicazione specifica per comunicazione internazionale e quindi io mi occupo anche di lingue che solitamente vengono snobbate sdegnosamente dai linguisti tipo le lingue degli elfi di tolkien o il klingon per l'appunto che io ho chiamato il latino delle lingue pianificate delle lingue di hollywood perché c'è questo fenomeno appunto di lingue fatte per hollywood come anche dottrachi del trono di spade o navi per avatar quindi queste sono alcune di queste lingue che diventano sempre più 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 popolari ho fatto fare delle tesi su su queste queste lingue e in particolare una di queste tesi che ha parlato che ha parlato della lingua antica del ciclo in haritan cycle di christopher paolini di aragon è stata poi pubblicata da paolini stessa diventata la grammatica ufficiale questo è stato un riconoscimento molto importante interessante bene conclusioni l'interlinguistica un fascino che io ritengo discreto per tre fronti appuntista linguistico a un taglio interessante soprattutto sociolinguistico con l'esperanto ma anche per problemi teorici che possono appunto corroborare teorie e modelli da un punto di vista filosofico ci offre una riflessione sulla natura la conoscenza la relazione del linguaggio il mondo da un punto di vista dell'epistemologia ma anche chiaramente la relazione tra lingua e potere perché a seconda della lingua che usiamo in ambito internazionale stiamo dando un taglio o un altro da un punto di vista informatica abbiamo visto che anche se è una lingua molto regolare ha dei vantaggi e un interesse per gli studiosi di intelligenza artificiale quindi vi ringrazio per l'attenzione e passo alle domande ci sono ancora cinque minuti leggo la prima domanda vuoi condividere un po la tua storia personale con l'esperanto qual è stata la tua personalissima motivazione per imparare la lingua oh la la cinque minuti non bastano cercherò di di andare al punto dunque io ho incontrato l'esperanto quando era adolescente ma la talo volevo fare io cioè io non da bambino volevo fare l'esperanto volevo costruirlo perché sono figlio di due confini confine tra l'italia la slovenia e la croazia e confine tra l'italia e l'austria e per motivi familiari di cui non vi parlerò a lungo o adesso volevo fare una lingua che unisse i vari anime della mia famiglia poi ho scoperto che qualcuno l'aveva già fatta infatti ero arrabbiatissimo da bambino con sam me l'ho fatto detto perché mi ha rubato l'idea e nella quando ero adolescente mi appassiono ai giochi di ruolo dungeon and dragons fantasy in particolare a tolkien hobbit signora degli anelli e scopro che tolkien negli anni 30 è sperantista e quindi questo è stato un click forte però avevo 12 13 anni per cui poi invento le mie lingue per le mie partite di giochi di ruolo con carte penne dadi e non pensate cose elettroniche si sta parlando degli anni 80 la prima generazione e poi questo interesse scende di nuovo e riaffiora dopo con col trattato di maastricht la nel 92 la l'istituzione unione europea era caduto il muro di berlino è caduto nel sovietica e io ero una giovane federalista europeo e volevo fare gli stati uniti d'europa come terzo polo tra tra il polo sovietico che era crollato e il polo americano fondamentalmente e e quindi mi sembrava interessante avere una lingua una lingua comune e quindi io a un certo punto letto dei pro e contro della dell'esperanto non capivo chi avesse ragione chi avesse torto detto sai che faccio la imparo così provo sul campo e da lì è partito tutto molto bene quindi questo è quanto vi volevo raccontare grazie a domanda grazie attenzione come potete vedere abbiamo vi ho lasciato nell'ultima slide i miei contatti sono piuttosto presente su diversi social media e quindi vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione ovunque voi siate e a presto se viene qualche altra domanda vediamo eccola qua c'è un'altra domanda c'è un problema di riconoscimento dell'interlinguistica da parte di altri colleghi linguisti quali sono le argomentazioni contro argomentazioni più comuni questa è una bellissima domanda abbiamo tre minuti per cui sarò molto breve sì dunque c'è un primo punto che le lingue pianificate essendo scritte prima che parlate violano appunto la priorità storica del parlato e non vengono considerate lingue serie dalla maggior parte dei linguisti con una parziale eccezione dell'esperanto però c'è una serie di pregiudizi ancora abbastanza abbastanza grossi anche perché la pianificazione linguistica in generale abbastanza fuori moda perché si preferisce studiare fenomeni di cambiamento spontaneo ma non non si vuole come dire mettere le mani nella parte decisionale perché in realtà i linguisti non sono dei puri descrittivisti quando descrivono qualcosa a volte devono anche prendere delle decisioni e c'è un po' questa idea di oggettificazione della della disciplina quindi questo un po' il punto la contro argomentazione rispetto all'interlinguistica è che le sue confini disciplinari sono poco chiari la sua il suo nucleo teorico fondante non è condiviso nemmeno degli interlinguisti questo purtroppo è vero e diciamo io sto dando il mio contributo a a questo almeno almeno ci provo per dare appunto un cuore fondante che sia anche attuale perché non si può pensare all'interlinguistica come la pensava Otto Jaspersen un secolo fa praticamente questo è un punto importante è inutile stare a discutere su l'esperanto va abbastanza bene o no l'esperanto è quello che c'è è vivo quindi prendiamone atto e vediamo che cosa si può fare questo è un po' l'idea proporre rivai dell'esperanto oggi è abbastanza secondo me inutile e le varie proposte non fanno che ripetere modelli già visti prima in interlinguistica per cui non apportano conoscenza nuova bene bene se non ci sono altre domande è finito il tempo vi ringrazio molto per l'attenzione buon proseguimento col polyglot catering ciao